Ciao, oggi ci troviamo a Lecco per un'escursione semplice a Pianciresa. Dal lungo lago di Lecco raggiungeremo il ponte Azione Visconti per proseguire sul sentiero. Questo è il Monte Barra e noi arriveremo qui a Pianciresa. A Pianciresa In 15 minuti di cammino abbiamo attraversato il ponte Azione Visconti, attraversato la strada e da qui abbiamo raggiunto il punto di partenza dell'escursione di oggi. Da qui entraremo all'interno del parco naturale del Monte Barro. A Pianciresa Arrivati a questo spiazzo prendiamo il sentiero che sale sulla destra come indicato dal cartello. A Pianciresa A Pianciresa A Pianciresa Fino a qui abbiamo seguito il sentiero numero 304 che sale da Lecco. Al bivio noi adesso gireremo a destra. A Pianciresa Questo è Pianciresa A 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 Pianciresa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due mani e qui in mezzo c'è il resume. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo un'ora e 35 siamo tornati al nostro punto di partenza su lungo lago di Lecco. Musica Grazie a tutti.